Il tecnico dell'Aglianese Ciccio Baiano dirà al termine della partita che non c'erano le condizioni per giocare. Le raffiche di vento hanno variato le traiettorie del pallone e a suo giudizio la partita andava rinviata. Stefano Cassani recupera Lorenzo Lazzari schierato come quinto di centrocampo. Dopo un inizio di assestamento entrambe le squadre hanno faticato a trovare le misure alle incessanti raffiche. Momento positivo aglianese intorno al ventesimo. Perugi si incune in aria e calza sull'esterno della rete. Una deviazione provoca l'angolo. Il diciannovenne Lica alla conclusione. Pazzini ancora in corner. Il portiere biancazzurro compie un intervento prodigioso inarcandosi per andare a togliere la conclusione di Viscomi. Diretta sotto la traversa. Il Victor San Marino lento e macchinoso con la quinta partita. In 15 giorni energie in riserva. Va vicinissimo al vantaggio sempre su palla inattiva. Sull'angolo di Sabba si alza Aruna. Sulla riga di porta il difensore dell'aglianese sistemato sul primo palo. Rinvia strozzando l'urlo in gola agli spettatori sanmarinesi che avevano visto la palla dentro. Finale di tempo favorevole alla formazione dell'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano. Boccalonne alla conclusione. Pazzini in due tempi poi sul fallo laterale da destra. Dornita colossale della difesa del Victor. Ne approfitta l'albanese Ardit Lica per spedirla alle spalle di Gianmarco Pazzini. Reazione della squadra di Cassani. Punizione Sabba. Ancora un salvataggio di un difensore sulla linea a mettere in calcio d'angolo. E sempre su palla inattiva il solito Lica. Di testa colpisce il palo esterno. Nella ripresa il Victor leggermente meglio sul piano dell'intensità. Si fa vedere con De Keiroz suggerimento per destra. Girata alta. Quando al minuto 24 sul suggerimento di Maloku. Riccardo Boccalonne tra i due centrali. Gira di testa alle spalle di Pazzini. Sembrava definitivamente una giornata no per il Victor. Cassani cambia tutto quello che può cambiare. Con in campo Sollacu, Tosi, Lombardi, Morelli e Gramellini. Passa al 3-4-3 ed ha ancora una volta ragione. Angolo di Sabba. Alessandro Tosi sul secondo palo. La spinge dentro. Primo gol in serie D per il nazionale sanmarinese. In settimana debilitato dal virus intestinale. Dimezzate le distanze. Victor a testa bassa sul traversone dalle retrovie. Fiaschi anticipa D'Este e rischia l'autogol al 92esimo sull'ennesimo. Taglio dentro. Nicolas D'Este arresta e gira in porta il gol di un pareggio. Che vale come una vittoria. Quinto centro stagionale per il centravanti. Sempre più leader di questo gruppo. Allo stadio di Acquaviva. Victor a San Marino aglianese. 2-2. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.